Bentornati a tutti, allora ultima parte di Focus Certificates, Christophe Corset qui con me di Unicredit. Allora Christophe, ho avuto pareri contrastanti sull'ITF di Rimini. A chi è piaciuto tanto, a broker, emittenti, quale l'Unicredit, ma molte altre, mi hanno detto, allora, forse c'è stata un po' meno gente, però un po' più qualificata, insomma i contatti sono stati buoni, il lavoro è servito, altri invece sono rimasti un po' così, amareggiati, diciamo così. Qual è la tua opinione? Ma la mia opinione è, noi siamo impegnati nella formazione e l'incontro degli investitori, in effetti abbiamo più di 40 tappe di formazione e di incontri. All'anno? Durante, a semestre. A semestre? A semestre, dunque siamo molto presenti sul territorio. Io credo che… Quasi più dei politici. Io direi che la vera domanda non è tanto se è piaciuto a tale o altro espositore, ma se è stato un momento utile per l'investitore. Allora, ti rifaccio la domanda. È stato un momento utile per l'investitore, secondo te? Diciamo che nel nostro ambito abbiamo provato di creare un punto di incontro sul settore dei certificati, dunque tenendo 18 conferenze e tavole rotonde sul nostro stand, dove sono intervenuti intermediari, specialisti dei certificati, gestori. Dunque è un panel relativamente ampio di specialisti. Le riscontri che abbiamo potuto avere da chi ha partecipato a questo ciclo di formazione sono state che effettivamente poteva essere interessante valutare investimenti alternativi rispetto all'investimento diretto. Tuttavia la barriera che spesso viene posta all'utilizzo dei certificati è il fatto che sono strumenti che anche si stanno riscontrando un maggiore successo di anno in anno. Lo vediamo dai volumi solitamente che analizziamo. Esattamente. Sono ancora veramente poco conosciuti o riservati a chi sta investendo in borsa, che ha già una padronanza dell'investimento in borsa. Ma scusa, oramai il certificato da quanto tempo esiste più o meno? Ma esiste in realtà dall'88 in Suizia. Si sono stati lanciati i primi in Italia nel 98. Si sono democratizzati e questo credo sia stata la volta storica per questo mercato dal 2006-2007 in poi. Dunque sono diventati accessibili a tutti con la quotazione di un largo numero di certificati sul mercato di borsa italiana. Oggi, in una situazione di mercato che è quella che conosciamo, dove è più difficile andare a cogliere i rendimenti dall'andamento di prese di azione. Soprattutto con rischi bassi. Con rischi bassi. Dunque volatilità in rialzo vuol dire semplicemente e concretamente maggior rischi di perdita. Dunque un certificato del tipo Express Bonus cosa fa? Ma semplicemente va a trasformare questa volatilità in rendimenti. L'altro elemento che ha è che consente di non essere preso dal momento di mercato, c'è delle variazioni a borsa fra i più 3 o meno 3, ma che viene, ci lascia il tempo. E terza caratteristica molto importante, che sono strumenti che non lasciano parte all'emotività. Spesso in fase di ribasso del mercato siamo più emotivi, abbiamo delle reazioni più erratiche nei nostri investimenti. Il certificato ha delle regole definite, chiare e che non vengono cambiate durante la vita. Dunque ci lascia il tempo di affrontare eventuali correzioni intermedie. Dunque la tendenza che vediamo, in realtà, e che abbiamo percepito anche a Rimini, che vediamo anche negli investimenti che sono fatti in borsa, è vedere molti investitori portarsi sui certificati forse per ammontare, inferiore di quello che hanno già domestichezza con il prodotto, ma che vanno a provare. Tu dici allocare una piccola parte del portafoglio su questi prodotti, un po' per vedere come va? Sì, io credo che riescano a abbassare il rischio. E una volta che si è percepito questo elemento, in questo ribadisco l'iniziativa di Milano Finanza e di trading, che fa vedere benissimo come includendo dei certificati nel suo portafoglio si va a abbassare il rischio. E la visione che abbiamo dal nostro osservatorio è di vedere entrare degli investimenti con delle operazioni più piccole. Dunque per questo sono molto favorevole, anche perché io credo che… Quanto è il minimo per un certificato? Un certificato solitamente viene messo al prezzo di 100 euro, dunque è un ammontare relativamente limitato. Dunque l'utilizzo di questo prodotto è effettivamente molto… E mediamente quanto viene alloccato nei certificati? Ma la transazione media che avevamo fino a qualche anni fa, fino a due anni fa su un certificato era di 15.000 euro, dunque è un ammontare molto importante. La transazione media, dunque che include… Adesso è andata a scendere? È andata a scendere drasticamente, perché la transazione media oggi su un certificato è tra i 6 e 7 mila, la metà, e questo include sia gli investori che erano già presenti sul prodotto… Ma immagino che siano più o meno le stesse percentuali anche per gli altri tipi di prodotti finanziari o no? Secondo il tuo punto di vista, però azioni, obbligazioni, immagino che comunque… Beh, le obbligazioni sono spesso operazioni di fondo di portafoglio, lì in realtà andiamo a cogliere un obiettivo di rendimento che non è a così lungo termine, quando investo sui certificati appunto avere un rendimento nell'anno o nei due anni che arrivano, non aspettare 4 o 6 anni, dunque è un approccio di investimento complementare. Dunque vediamo nuovi investitori riportarsi sul prodotto ed è per questo che ci siamo impegnati nella formazione e in questi incontri, perché è vero, e questo l'abbiamo colto, la richiesta di investitori che ci sono strumenti che possano sembrare più complicati, anche se il loro funzionamento è molto trasparente, molto semplice, molto più, direi, purtroppo assettico, che possano essere altri investimenti, però bisogna capire bene su cosa si va a investire. Dunque lavoriamo molto su questo, abbiamo risultati, vediamo gli investitori che le utilizzano di più, continueremo comunque non a direi spingere il prodotto, ma piuttosto… Spingere la formazione. A fare in modo che il prodotto possa essere utilizzato in modo consapevole da un maggior numero di investitori. E di conoscere le caratteristiche e utilizzarlo per quanto se ne ritiene più opportuno. Va bene, Cristof, siamo in chiusura, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, per averci spiegato in linea generale cosa sono, averci spiegato nuovamente, che ormai l'avevamo fatto già un po', però serve sempre, anche per l'educational finanziario. Grazie mille, Cristof. Grazie a voi. Bene, ricordo l'appuntamento con Focus Certificate, tornerà come tutti i venerdì alle 10.10. Arrivederci.